Come aggiungere il componente Multistep Con il componente Multistep puoi inserire delle indicazioni da condividere con i tuoi visitatori da seguire passo dopo passo. Per aggiungere il componente Multistep all'interno del tuo sito, clicca a sinistra sulla barra degli elementi, clicca su Utility, trascina il componente Multistep nell'area di lavoro. Clicca sul componente con il tasto sinistro del mouse per modificarlo, clicca su Modifica Step, clicca su Aggiungi Step per aggiungere un altro step. Clicca su Impostazioni Step per nascondere il numero, modificare lo stile o invertire l'effetto dei colori. Clicca sull'icona occhio per mostrare la descrizione al click, in over o sempre, e per modificare l'orientamento dello step. Clicca su Colori per modificare il colore del testo e del titolo. Clicca su Carattere testo per modificare il font o la dimensione.